Se volete acquistare crediti FIFA a basso prezzo andate su FIFAUltimateinCoins.com E con il codice GRAN avrete il 5% di sconto Bella vecchi trapani Ma perché stanno a fare l'intro in coop? L'intro in coop Vabbè vai Olè vai Finalmente la squadra del merda Che non è il po' del merda però Che è moreno Vedi? Il pupillo moreno Mureno Mureno Comunque Oggi si va per Cercare l'impresa Non si va per niente Meglio Facizzo We done Ah ci Questo è sempre una cosa dei partiti fascisti Subito Cabella Mamma mia Cabella Subito che cazzo Oh quello giù mi parei a Gervinio Oh no 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 Via Mamma mia Vai 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 a prendere Oh che è Vabbè Cabella Come se Un po' successo Che cazzo è farlo Perché coglioni Ai 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 E' dove Oh qualcuno gane Mi fanno girare Ma che cosa costa Guarda che culo Basta Guarda guarda Tutti gli balli suoi Amma mia Fanculo Ma andai c'è nemmeno Ma andai c'è nemmeno Ma andai c'è nemmeno Non ci faccio più Non ci faccio più eh Cioè resta salire solamente nel vuoto ti giuro Mai Ma guarda Mamma mia Questo è peggio di quando prendi con le quando è così ti giuro Che cazzo le so Questo mi fa fa Un trippare il cervello Un trippare il cervello Oddio 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 Non gli entro male No 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 Non ci voglio credere Ma che rigore gli ha dato No ma cosa hai messo a farvi Ma che rigore gli ha dato Perché i cazzolini In palli Sono tutti i suoi Guarda È rigore questo Scusate ma È rigore Pure per il passaggio Quello che sono B下 Bella palla No 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 Non è forte Non è forte Non c'è Non c'è Mi crede Non è tipo ma porca fai il prego come se la gioca il non c'è stato perchè c'è stato subito rimandami bella ma che cazzo ma perchè sa sempre voi lo faremo mi adorlo come gioco ma dai dai entro ma che cazzo ma vabbè non ci voglio credere è scritto PORCA PADOSCA è scritto è scritto come e dai cazzo dai mamma mia che cosa dobbiamo fare per fare questo cazzo di gol mamma mia tutta la concentrazione qui e poi ha preso il palo eh non c'è non c'è non c'è non c'è mamma mia vado vado troppo no perchè di solito quando oh hai rotto il cazzo hai rotto il cazzo vai no perchè di solito quando mi fermo perchè so che rientra uno rientra è fatto è fatto è fatto è fatto è fatto è fatto guarda che cazzo ti sto oh no vuoi pure ripialla cioè fammi capi vedi vedi eh ehm modo rientrato eh ma stavo così corto dai dai va bene non è per lui per quello sotto madonna mia che ritardati dai ti la prende sempre lui no dai dai prego i giocano sp li published no voi o م 陳 ma che cazzo è? se la buttò per te la sei alzato subito vabbè però non è possibile che abbia sempre lui cioè non è possibile sta cosa qua c'è manco tempo di passarla no no, non è possibile mi sto trattenendo dello spaccare qualcosa calcolateci, mi sto proprio fa trattenere perchè va così lento questo? dai, è l'ultimo entra no, no, non è possibile, questa è proprio la sfida di sto gioco, mano mortarci tu a mortarci, oh vaffanculo era un altro ciao 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 ciao